Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Nene Bugnoz, benvenuti alla mia giungla. E questo video è per rendere omaggio alle nostre piante che tanto ci hanno supportato e anche insegnato in questa quarantena. Mi auguro che vi piaccia. Penso che le piante in casa rispondano al bisogno ancestrale dell'umanità di essere a contatto con la natura. Questo periodo di chiusura mi ha obbligato a fare attenzione alle cose più piccole, minuscole. Ho visto con estrema gioia ogni seme germogliare, ogni nuova foglia nascere e crescere. Mai come prima d'ora le piante mi hanno insegnato tante cose, come la pazienza, il modo gentile ma severo che hanno per obbligarci ad aspettare. Ho capito il lavoro, la dedizione e la responsabilità che ci richiedono. Ho visto la semplicità e la complessità insieme in uno stesso essere. La generosità con cui donano bellezza, nutrimento, aria pulita. Il silenzio, la concentrazione, la calma. Lo stato meditativo che si prova quando si è in mezzo a loro. La diversità e varietà che offrono a ogni sguardo. Sono sempre loro ma mai le stesse. La resilienza con cui affrontano l'esistenza. Anche se si fanno male resistono, combattono, non si arrendono mai. Mi hanno dato speranza nel futuro, certezza che la vita va avanti, in qualunque modo sia. Grazie a loro ho imparato che l'evoluzione sta nel sapersi adattare a ogni situazione. Mai come oggi c'è bisogno di fare tesoro dei loro insegnamenti. Basta esserne consapevoli. Grazie queridos plantas e grazie a voi per l'attenzione. Un abbraccio forte. Grazie a tutti.